ritorno al CIV Gianluca Dannelli Gianluca, ritorni e ritorni con la BMW Superbike Sì, team MM Resi che mi ha chiamato mi ha messo a disposizione questa BMW Superbike con uno staff tecnico di prim'ordine siamo solo in ritardo con le prove abbiamo provato qua giovedì la prima volta e quindi abbiamo tanto lavoro da fare ma siamo fiduciosi perché abbiamo tutti molta esperienza e quindi cercheremo di accorciare i tempi di apprendistato e di essere competitivi il prima possibile Hai fatto pochi test quindi Misano per te sarà un po' una gara test ma delle prossime gare ti troveremo le davanti Io spero anche da questa comunque vedo la cosa bella è che ogni giorno miglioro abbasso 5-7 decimi quindi questo è un segno positivo è un segno che stiamo imparando a capire la nostra fidescona e spero comunque di ancora di far bene in prova vorrei almeno rimanere nelle prime due file e sarei contento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti